Non ci ho fatto in post partita perchè non sono riuscito a farlo In realtà l'avevo registrato 18 minuti di video Poi manco me non riuscivo a caricare Quindi ho detto facciamo una cosa Qui due giorni dopo Non è un post partita perchè devo parlare anche di molte cose Però le pagelle però Ora parlo un po' di molte cose E quindi spero che il video non durerà molto Quindi iniziamo subito Juventus Napoli questo è l'argomento Inizio subito a dare una domanda secca Proprio secchissima subito Il capriota della serie A Che cazzo sei giocato a fare quest'anno 2018-2019 A che serve la serie A Perchè faccio questa domanda Perchè se tu guardi gli altri campionati Per esempio la Bundesliga ognano vince sempre il Bayern Monaco Il Ligano ognano vince sempre il Paris Saint-Germain In Spagna più o meno Il primo posto Se lo condividono sempre Barcellona e Real Madrid ognano poi va in serie A Ovviamente vince sempre la Juventus Da 8 anni consecutivi Voi dirite come ha vinto 7 scudetti consecutivi Io dico 8 Io dico 8 Perchè la Juventus già ha vinto il campionato Già ha vinto il campionato Per me pure il calendario è falsato Perchè tutti quanti dicevano Ah il Napoli non è stato bene Perchè non ha fatto un gran mercato rispetto alle altre squadre Quindi il Napoli dovrebbe essere l'anti-Juventus Quindi nelle prime 10 giornate Mettiamoci tutti Mettiamoci la Madonna Gesù Cristo Mentre la Juventus mettiamoci il Chievo Il Parma e tutti quanti Ecco E già ci speravano che la Juventus Stava a 14 punti Il Napoli stava a meno 6 Invece stiamo a meno 6 Dunque Abbiamo vinto sempre contro Milano e Lazio Io sono ancora fiducioso di questo Napoli Allora iniziamo a parlare della partita Che cazzo si è fatto qua Allora iniziamo a parlare della partita Perchè tutti quanti ti hanno si è attaccato all'albio Perchè raga Ma regaliamocelo già Piggio Opaq Complimenti alla Juventus Perfetto il loro 38esimo scudetto della loro storia Complimenti veramente Perchè tanti è inutili che ci giochiamo in questo campionato Io farei un appello a squadre come Napoli, Roma, Inter, Milan, Lazio A non giocare più il campionato della Serie A Ma è meglio il campionato olandese Perchè almeno non c'è sto schifo Non c'è sto schifo che c'è in Italia Ogni anno vince sempre la stessa squadra Voi direte rosicona Tutto rosiconi noi Tutto rosiconi noi Ma proprio noi In Serie A sì Ma voi andate in Champions League Noi rosiconi quando voi non sapete perdere Non sapete proprio perdere Perchè in Champions League Questo significa Voi quando state perdendo la partita Sembrate avete perso la terza guerra mondiale Un bordello Manzo che c'è dall'arbitro Ma quando lo fischi sto di coro Un bordello Tutti quanti che si ammazzo Oh è più una vinta questa partita Esempio Real Madrid di Juventus Champions League l'anno scorso Viste come ha fatto Buffon Buffon di Juventus Ecco Capitano della Juventus Sex ormai Se è fatto il spellero Perchè ha segnato il ricordo Di chissà Dall'ultimo minuto Che non ha fatto la qualificazione Dalle Juventus Punto Non sapete perdere Quindi Adafoces Dovete fare il cesso Comunque Io non riuscivo Vabbè è normale che riuscivo Perchè il Napoli ha perso una partita Contro una squadra Che desidera di battere ogni anno Perchè sapete Se battiamo la Juventus Che succederebbe Che succederebbe a Napoli L'abbiamo dimostrato L'anno scorso Cullipoli Ecco Però C'è raga Quello che vorrei dire Quello che vorrei dire Ma Perchè non lo assegniamo Prima che inizia il campionato O meglio Perchè non giochiamo a fare Questo campionato O meglio La partita a Juventus Napoli Che si è giocato a fare Che tanto già si sapeva Che la Juventus ha vinto O meglio Quando Lapid ha dato il rosso A Mario Rui Perchè non l'ha finita lì La partita Perchè tanto si sapeva Che la Juventus L'aveva vinto Un'altra partita Ah Prima di tutto Il rosso a Mario Rui Non c'era Il rosso a Mario Rui Non c'era Comunque In Lega In Champions League Non sono spagnoli Il presidente Tutto quello che Ma si vede proprio Che Che sono diffusi Soprattutto della Madrid Ma anche dei spagnoli Perchè poi Valenza Contro la Madrid Guarda caso E Juventus Ronaldo Prende un torto arbitrare Invece in Serie A Mai Mai Perchè do la colpa Pura alla Lega Italiana Perchè sono tutti lecchini Telecronisti compresi Ehm E fanno vincere sempre la Juventus Che Sono tutti i giuventini Sono tutti i venditi Qua in Champions League Sono i giuventini Alla Juventus Ha subito Torti arbitrare Come mai Come mai Ecco Quindi Il Rosso Mario Non c'era Poi con questo Cristiano Ronaldo Con questo Cristiano Ronaldo Ma che Tiene l'immunità Ma che c'ha Un Che è un germe Ehm È una medicina Contro Il Mario Cioè Vorrei capire Vorrei capire Porca mignotta Non so manco cosa dire Perchè scusate Cristiano Ronaldo Contro il Napoli Due volte Andato in fuoricioco Sapeva di essere Fuori dalla linea Dei difensioni L'arbitro Il Guadalino Ha alzato la bandierina E lui che fa Sapendo di essere in fuoricioco Ha tirato lo stesso E non è stato ammunito Manco due volte Manco una volta Ma questo l'ha fatto due volte Quindi doveva essere espulso Il giocatore Che ha cambiato la partita Perchè si vede Non siamo solo Attaccati all'arbitro Perchè La partita Tra il Giamento Sono troppo forti Perchè i club organico Sono fortissimi Sono sincero Non sono le cagule Però è da dire la verità Come Rosso Vra metta 21 20 giocatori Straordinari Che fanno La differenza In campo Cristiano Ronaldo L'ha fatto Perchè se l'anno scorso La Giamento Non vinceva la partita Perchè ha fatto tutto Che si hanno avuto Soprattutto nel primo gol Poi Raga Come Rosso Vediamo i due terzini Della Juventus Cancelo E Alexandro Vediamo i due terzini Del Napoli Mario Luisa E' vero per il futuro Sono Sono fiducioso Perchè ritornerà A Gulama Però si sa già Che non ritornerà Quello dell'altra volta Almeno ci sarà Almeno due anni Per ritornare Il vecchio a Gulama Almeno un anno Dai Poi C'è pure Luperto Pronto ad esplodere Ad essere il futuro Titolare del Napoli E poi a destra C'è Balquit Che potrebbe essere Il futuro titolare Del Napoli Ma a me lo auguro Perchè non giù Isai Isai E' Un bitone Esagerato Ma io c'è che Prendono Giocatori che si meritano Il posto da titolare Con per esempio Un ass E poi ci sono Giocatori Isai Che fa il titolarissimo Nel Napoli Ma come cazzo E' possibile Sta cosa Isai Ma cosa ha fatto Di buono Per essere titolarissimo In una squadra Forte come il Napoli Cosa ha fatto Di buono Cosa ha fatto Porca mignotta Isai Isai Nel primo gol Di Manziquic No Ronaldo E' vero che c'aveva Una linea Però Tu Che alla prima finta Te ne vai già Proprio a quel paese E vai Alla prima finta Ecco Ronaldo Doppia finta Crossi in mezzo Per Manziquic E tu sei andato Proprio a banane A vuoto Isai Non solo Isai Perché anche Baruri Però dopo ne parleremo Sono i problemi Dei due testini Dell'Apli Ma non solo Per colpa loro Ma anche per il presidente Comapigi De Laurentiis Perché Ci abbiamo Malquitti Poi si rende a preso Malquitti La prima partita Si è dimostrato Veramente Gran bel giocatore Interessante In attacco Molto buio Però come mai Non lo fa giocare Ancelotti Contro La Juventus Se l'aveva fatto bene Se non faceva bene Perché non è Esperienza Non è esperienza Qui mi dovevi comprare Un top player Come terzino destro Non mi devi comprare Malquitti Che sicuramente Per forza Farà il panchinano Quest'anno E che cazzo Me l'hai comprato A fa' Malquitti Allora Il sostituto di maggio Non di Isai Ma no Isai non si leva mai Guarda cosa Isai non lo si deve Levar Ma chi è madame A Kragl Kragl del Foggia Eh Che non spendi Manco Tanto Tu si pappone Pichita Kragl Che ci fa Rupi Già Ecco Questo L'ho parlato Di Isai Che è un bitone Isaci Quindi Malquitti Pure che avrebbe fatto Giocare Isai Contro la Juventus Perchè magari Perchè magari sa più Conteneremo Però Malquitti Sapete Non era così scontato Perchè Malquitti Che ne so Poteva contenere La velocità Di Cristiano Ronaldo Poi dico I problemi Di Terzini Perchè Tutti quanti Tutti In Champions League Prendiamo Il Liverpool Mocchi Isai Beccherà Salmane Mocchi Mario Rui Beccherà Salah Mocchi Isai Beccherà Neymar Mocchi Mario Rui Beccherà Vabbè Mi cago Veramente Sotto In fine Cosa farebbero loro Comunque Se devo fare Una scelta Di 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 formazione Io farei così Metterei Insigne Esterno Sinistro E caglioconna a destra Contro Liverpool Il PSG Voi dite Ma Insigne sta Sta facendo meglio In 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 attacco Insieme a Milik Magari ci sta In fase Di possesso In fase di possesso Di contropiede Si accentra Però in fase di non possesso Deve fare l'esterno Perché Zellischi La fase difensiva Non la sa fare Dopo lascerebbe solo Mario Rui Contro Fenomeni come Mbappessa Chi li conosce Chi li conosce Quindi Almeno Insigne Potrebbe aiutare In fase difensiva Caglioconna L'altra fascia È molto bravo Eh 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 Quindi Mi raccomando Questo che farei Quindi Ancelotti Deve essere Intelligente E bravo In questo Fatto Poi Il rosso di Mario Rui Ci stava No Non c'era mai Tutta la vita Non c'era Il rosso di Isai Non Ma Allora Ma 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 Vedi Rosso È doppio Giallo Il primo cartellino Giallo Non c'è Troppo Troppo Severi Il primo cartellino E il secondo Giallo Ma Vabbè Ci potrebbe Stare Ci potrebbe Stare Non c'è Tachimata Ma Ci potrebbe Stare Però Se tu Mi fai Un'espulsione Esagerata Secondo Mi Un'espulsione Esagerata Perché Tu Può Tutti I Cazzo Come Su Può Perché Sai Che Il gioco Di Mario Può Fare Tutti I Cazzo Su Testato Comitato Sempre Giallo Sempre Giallo Porca Mignotta E poi Ronaldo Che mi tira Sempre In fuorigioco Manca L'ammunizione Poi C'è Anche Che altro C'è C'è Lì Va bene Non c'è C'è Su Amsic Di Bala Poverino Sul Foglio Di Mario Rui Di Bala Su Sui Social Network Ha Mandato La Foto Della Caviglia Fasciata Poverino Si è Fatto La Bua Di Bala Comunque Ronaldo Ha Cambiato La Partita Da Giuntos Invece Insegna Non ha Fatto Niente Io Mi Ho Detto Che Insegna È Forte Ha Una Gran Tecnica È Un Campione È Un Campione Però C'è Differenza Dalla Campione Top Player Parliamo Sempre Che Se Fuori Classi Come Ronaldo Che Ti Pure Pure Se Mertens Gioca Bene Pure Se Mertens Gioca Poco Pure Se Mertens Non è Medi Torale In Volta Che Gioca Fa Gol Decisivo È Vero Contro Juventus Poteva Tramutarsi In Decisivo Però Non L'è Fatto Però Comunque Ha Segnato Ha Rimonta Contro Il Milan Significa Che Veramente Quest'anno Finalmente Abbiamo Una Grande Panchina Finalmente Spina Oltre Tre Gol Mi è Preciuta Devo Sire Sincero Devo Dire Una Cosa Che Mi Dispiace Del Napoli Una Cosa Che Non Mi È Piaciuta La Fase Difensiva Perché Queste Due Partiti Che Abbiamo Perso In Campionato Solo Contro Sampdora E Juventus Magari Contro Sampdora Vabbè Ci Costa Raffreddo Non Ha Caduto Però Sempre Contro Sampdora Sampdora Te Le Magna E Appena La Squadra Avversaria Fa La Partita Della Vita Ti Mette In Difficoltà E Non Va Bene Questo Contro La Juventus Consiglia Una Big Juventus Però Perdi 3 A 1 Non È La Prima Volta Quindi Se Tu Napoli Può Essere L'anti Juventus Ma almeno Stare al passo Degli Juventino Non Mi Può Perdere 3 1 Perché Significa Che Ancora Stai Un Gradino Sotto Alla Juventus Non Arriverai Mai A livello Loro Perciò Dico Che La Juventus Ha Già Vinto Il Campionato Perché Se Batte 3 1 Contro Il Napoli Che L'unica Squadra Che Può Giocarsela Per Lo Scudetto Contro La Juventus Perché Per Me Il Napoli È Un Gradino Sopra Roma Lazio Inter Milan Però Il Napoli Allo stesso Tempo È Poi Abbiamo Contro Il Big Vabbè Come Ho Detto Una Cosa Queste Sconfitte L'ho Viste Ma Molte Ma Molte Molte Contro La Juventus Non è La Prima Molta L'avevamo Fatto Anche In Coppa Italia O Anche Contro Due Anni Fa Quando Segno Cagli Con L'assistente Inzignia Poi Segno Higuain All'esordio Contro Il Napoli Vi Ricordate Che Segno Algo D'Alex Poi Contro Il Real Madrid Andate Ritorno E contro Il Manchester City Sempre Sempre Abbiamo Fatto Così Che Nei Primi Minuti Abbiamo Fatto La Partita Della Madonna Che Li Prestiamo Li Abbiamo Messe In Difficoltà Abbiamo Segnato Abbiamo Segnato Poi Dopo Facciamo Le Cazzo Non Ti Devi Difendere Non Ti Devi Assolutamente Difendere Perché Non Ti Sei Difendere Infatti Se Viste Contro Il Madrid Contro Il Sido E Contro L'Aguventus Ci Siamo Sempre Fatti Rimontare Magari Iniziamo La Partita Normale E Poi Ci Sblocchiamo Perché Non È Che Facciamo Una Partita Della Vite Segniamo Ah Che Bello E Poi Ci Facciamo Sempre Rimontare Perché Dopo Ci Mettiamo Tutti In Difesa E Che Cazzo E Che Cazzo Poi Cagliacone Che Mi Mangia Il Gole Davanti Alla Porta Cagliacone Madonna Tanto Si Sapeva Da Subito Che Cagliacone Ci Mangiava Con I Goli Ero Sicurissimo Da Come Era Partito E La Finta Buona Finta E Bottai D'esterno Non Tirare Finta Verso D'esterno E Poi Col Sinistro Che Non È Il Tuo Piede Piano E Centrale Ma Che Madonna Infatti Napoli Non Ha I Campioni Che Si Mangia Perché Se L'ha Per Ci Fosse Stato Un Giocatore Della Juve Che Si Sarebbe Segnato Quel Gol Saremmo Parlando Una Partita Diversa Anche In 10 Perché Abbiamo Quello 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 È Intelligentissimo Perché Ha Fatto L'assist Per Bonucci Perché Ha Visto Molto Generoso Bonucci Bonucci Segnano Sempre Conto Di Bonucci Che Lì Bonucci Segnano Sempre Conto Di Lui E Lotta Della Difensore Perché Ci Ricorda Anche Da Parte Nostra Chi Se Non Scorda Più Vabbè Comunque Bonucci L'uomo Più Sportivo Del Mondo Assolutamente Assolutamente Spero Di Aver Detto Tutto Perché Se Non Ho Detto Qualcosa Sono Matto Da Legare 16 Minuti Di Video Anche D'altro Terreno 18 Mi raccomando Iscrivete Al canale Noi ci vediamo Al passato Sperando Al più Presto Ciao Gioventù Spero Di aver Capito Il